Buonasera e bentornati a TGTG, telegiornali a confronto. A commentarli oggi non ha bisogno di presentazioni, potremmo dire che è stato più volte presidente del Consiglio dei Ministri, presidente della Commissione Europea a TGTG questa sera a TV2000 e il professor Romano Prodi. Grazie per essere con noi. Grazie a voi di avermi invitato. E allora andiamo a vedere subito, presidente, i titoli dei TG appena andati in onda e pronti a commentarli insieme subito dopo la nostra sigla. Libia, Haftar chiede 48 ore per decidere il suo accordo per tregua. Pressing di Mosca, Erdogan, se il generale attacca gli daremo una lezione. Caos in Libia, fallisce la tregua, Haftar lascia Mosca senza firmare l'accordo e si prende altri due giorni per riflettere, ripresi i combattimenti alla periferia di Tripoli. Libia, Haftar chiede 48 ore per la tregua, la Turchia è in caso di attacchi, reagiremo in serata a vertice a Palazzo Chigi. E allora abbiamo visto un grande sguardo sugli esteri. Professore, non so se lo sa, oggi come esercizio, visto dalla sua presenza, siamo andati a scandagliare i quotidiani. Il suo nome, senza che lei abbia rilasciato nessuna intervista, compare ben 22 volte sui principali quotidiani nazionali. Questo per diversi temi. Cos'ho fatto di male. I temi sono l'Emilia Romagna, la legge elettorale, anche gli esteri e l'Olivo. Io ne riprendo uno di questi, che viene dal Sole 24 ore, in cui Ageli Breni, il coordinatore del forum delle tribù libiche, cita proprio lei. E dice che una soluzione è quella che lei ha proposto. Che soluzione per la Libia? Ma vede, io conoscevo bene la Libia, abbastanza, insomma. Ogni volta che andavo in Libia, non dico che parlassi con l'opposizione, perché non c'era l'opposizione a Gheddafi, ma parlavo con il capo tribù, perché era un paese controllato a Gheddafi, ma in cui il ruolo delle tribù era importantissimo. Quindi il mio chiodo fisso era la pace in Libia, la rifacciamo soltanto se mettiamo attorno a un tavolo tutte le tribù. E invece una potenza ci ha messo lo zampino, l'altra l'altro zampino. Adesso abbiamo il risultato che la Libia viene contesa fra la Russia e la Turchia. Cosa c'entrano? Me lo dice lei. Ecco, questo è il risultato di essere noi europei divisi e di non aver capito che questo era un paese complesso e quindi in cui la complessità doveva essere messa in gioco. Eppure, diciamo, anche per un legame storico del nostro paese, il governo si è impegnato in prima persona, anche l'Europa sta cercando, ma non sembra avere quella voce di un interlocutore unico, forte, nei loro confronti. Perché bisogna prepararle queste cose, spero che si riesca perché io me lo auguro. Quando abbiamo preparato la missione in Libano c'era l'accordo con la Francia e con gli altri interessati, la linea diretta col segretario dell'ONU e si è creato una truppa di pace che tuttora ha conservato la tranquillità e la sicurezza nella parte più difficile del mondo perché ha gli Ezebollah da un lato e Israele dall'altro. Io mi auguro che sia fatta la stessa cosa, però ripeto, in Libia non si può prendere un lato o l'altro. La Libia è complessa. Torniamo un attimo in Italia. Lei dal 2010 insegna a Shanghai. Questo è un impegno al China Europe International Business School, quindi davvero da tantissimi anni, come è anche docente in altre università straniere, ma poi resta sempre, torna nella sua Bologna. È un legame grande con la sua città. Beh, per forza. Ma no, ho segnato a Shanghai, negli Stati Uniti, all'Università di Brown, ma la mia casa è Bologna. L'ho sempre conservata anche quando ero Presidente del Consiglio e anche quando ero Presidente della Commissione Europea. Ci ricordiamo che il suo viaggio è anche in treno, verrà tornata a casa? Beh, adesso poi si fa anche presto, no? Ma, vede, il problema delle radici... Quella vediamo per esempio con Tony Blair e in altri momenti... Il problema delle radici è un problema importantissimo per la vita, cioè adesso che ho compiuto gli 80 anni io posso passeggiare con i miei amici da 40, da 50 anni, rivedo i miei vecchi compagni di scuola, cioè è un altro modo di vivere e di vedere le cose, cioè non si ha mai l'angoscia di tornare a Roma. Di tornare a Roma. Non si ha mai l'angoscia e nemmeno di tornare a Bruxelles. Perché? Perché c'è un nido, un buon nido. E poi, oltre che padre, è anche nonno di sei nipoti. Beh, poi i ragazzi, tutte le scuole a Bologna, crescono lì e questa è anche un'altra cosa. Ecco, il problema che mi preoccupa e chi penso quando vedi i miei nipoti è che ma ricostruiremo questo paese perché possano poi trovare anche loro un lavoro qui, trovare anche loro o dovranno emigrare. Questo è il nostro problema che abbiamo di fronte, capisci? Eppure a Bologna di cose ne succedono, nel senso che un movimento dal basso che riguarda i giovani, e citiamo insomma le sardine, sta prendendo piede e in qualche modo sembra anche dimostrare come dire che forse il partito come istituzione è messo quasi in crisi da questo modello. Come vede questa spinta dal basso, questa, come dire, quella che per ora, insomma, ancora non ha la formula della proposta? Ma è un fatto che non è solo italiano. Va bene, Bologna è particolare perché è piccola e grande abbastanza per avere fermentazioni per potersi parlare. A Bologna è nato l'olivo, a Bologna Grillo ha fatto la sua prima manifestazione, a Bologna sono nate le sardine. Non è casuale, è perché il tipo di città permette questo. Però vede, è interessante perché nel 2019, nell'anno trascorso, noi abbiamo avuto in tutto il mondo tutta una serie di manifestazioni popolari, no? E Hong Kong, Libano, Sudan, Cile, Gile Gialli, tutte senza una leadership piramidale, tutte derivate dai nuovi media. Questo è un fatto di cui ancora non capiamo le conseguenze. I nuovi media che hanno portato la crisi dei partiti e hanno portato a delegare l'autorità e quindi a mettere in crisi la democrazia, adesso costituiscono come l'antidoto, no? Vedremo come va a finire, perché per ora il fenomeno è troppo giovane. Alcuni mi dicono che ero dietro i sardini, purtroppo no. Sì, ero detto così. Purtroppo no, è stata per me una sorpresa, però li vedo con grande simpatia. A proposito di scala gerarchica, c'è un partito, il Partito Democratico, che è riunito, come sapete, in questi giorni, in provincia di Rieti. Un grande spazio trovato negli altri titoli dei telegiornali che possiamo andare a vedere per poi commentarli in studio con il professor Romano Prodi. Zingaretti, piano in cinque punti per il governo, dalla rivoluzione verde alla spesa per l'educazione, i 5 Stelle, confronto sul fisco. La vicenda Gregoretti alla giunta del Senato. Zingaretti chiude la due giorni di riflessione del PD. Non siamo subalterni ai 5 Stelle, ora una fase nuova per il partito. Intanto i grillini respingono un'alleanza organica con i Dem. In serata la giunta decide quando si vota sulla richiesta di rinvio a giudizio per Salvini, prima o dopo le regionali. L'Unione Europea vara il Green Deal, il piano di investimenti per l'economia verde. Il programma della Commissione Europea mobiliterà almeno 1.000 miliardi di euro di investimenti sostenibili nel prossimo decennio. Rivedremo la normativa europea sugli aiuti di Stato in linea con gli obiettivi politici del Green Deal, ha spiegato il commissario all'economia, che è, come sappiamo, il nostro gentiloni. I primi fondi saranno utilizzabili anche per la riconversione dell'ex Silva di Taranto. Professore, Partito Democratico riunito a Contigliano, in provincia di Rieti, ma anche lei nel castello di Gargonza nel 1997, poi anche a San Martino in campo in Umbria nella 2006, aveva in qualche modo inaugurato, sposato, l'idea di, è stata chiamata impropriamente conclave, un ritiro insieme per fare cosa? Perché sono utili secondo lei questi momenti e in quelli che stiamo vedendo in questi giorni appena conclusi? Possono essere utili e anche dannosi. No, in questo caso secondo me è importante, è importante se cambia alcuni punti del programma, ma se cambia il modo con cui il partito si avvicina alla gente. Cioè prima, chiami pure la prima repubblica, avevamo tante linee di trasmissioni, che erano da un lato le parrocchie, dall'altro le cellule, i sindacati, tanti compri interventi, questo si è rotto tutto. Quando cominciò a rompersi, con l'ulivo creammo delle altre strumenti di dialogo, ma poi i nuovi media hanno rotto anche questo. Allora bisogna riportare il rapporto con la gente e quindi anche finirla col partito che diventa un club chiuso di dieci persone che si parlano l'uno con l'altro e che si eleggono l'uno con l'altro. Quindi il problema sarà, io penso, poi che verrà affrontato, quello di legare le cariche del partito non alle tessere, ma ai successi elettorali che il partito ha avuto in quella regione, legarle alle regioni, cambiare totalmente il rapporto. Ma lei si rende conto che io non conosco più di un terzo dei parlamentari di Bologna, ma questo non è possibile, non hanno più l'ufficio in provincia, ma ci si accanisce sul numero di parlamentari, per carità la Camera secondo me sono troppi, è difficile dialogare, però il problema vero è riportare un sistema elettorale che ti faccia in modo che il parlamentare poi risponda, non solo durante le elezioni, ma durante cinque anni ai suoi elettori. Ecco, allora, se il partito democratico riprende, riammodernandola, questa funzione avrà un successo e non perché lo può fare solo lui. vedremo se questo conclave sarà l'inizio di questo percorso. Un percorso che forse è anche un ritorno poi ad una presenza sul territorio che quest'area fra l'altro politica ha abbandonato, ma era un presidio permanente. Abbandonato, è cambiato il mondo, non è che abbia abbandonato tutti i nuovi mezzi, allora bisogna adattare alla nostra situazione, ma la gente ha bisogno delle facce. ha bisogno di dialogare, ma io quando la campagna elettorale col pulmo la fatica, le decine di migliaia di persone nella fabbrica del programma con cui abbiamo dialogato, sentendo i problemi, beh, questo è il modo di far politica. In quegli anni, a San Martino in Campo e in Ombra, nella 2006, lei ai suoi ministri disse serve il coraggio di stupire, e oggi invece di che cosa c'è bisogno per la politica italiana? Guardi, c'è bisogno di vincere qualche battaglia, il paese sta arretrando, 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 c'è bisogno di dire, c'è qualche campo nuovo, no, di tecnologia, di cultura, di premio Nobel, di arte, in cui ci ridentifichiamo assieme. poi dopo si partono delle energie incredibili. Quando si sviluppò l'industria italiana dopo guerra, ognuno imitava l'altro, c'era una specie di corsa all'ottimismo, o noi ricostruiamo la testa e il cuore, oppure è inutile prendere dei provvedimenti. Varemo allora a vedere anche su questo, mentre, come dire, un banco di prova di fatto avviene, oggi non vogliamo fare Bologna, come dire, Caputmundi, però oggettivamente gli occhi sono puntati su quella regione, sull'Emilia-Romagna, come vede a queste imminenti elezioni e che conseguenze possono avere. Anche lì, in Emilia, noi abbiamo la completa differenza fra chi si sente fuori. Vede, prima pensavamo che il discorso del voto fosse ricchi, poveri, c'è anche questo, ma oggi, analizzando proprio il voto, è fra chi si sente parte del gioco e chi si sente fuori, cioè chi è al volante e chi si sente solo trasportato. Ed è una divisione che sta avvenendo in tutto il mondo. New York e la California votano per la Clinton, il resto vota per Trump, Londra vota per stare dentro all'Europa e il resto della Gran Bretagna vota Brexit. Possiamo moltiplicare tutti questi discorsi. Allora noi abbiamo bisogno di ricostruire il dialogo anche nella società, far sentire la periferia parte del centro, ma viene automaticamente se ricostruiamo i partiti come linea di trasmissione. Se non facciamo questo, è impossibile riorganizzare il paese in modo unitario. Ecco, le chiedo, allora forse rispetto al passato, oggi si è investito come canale di comunicazione, di prossimità, soltanto sui social media? come sappiamo si è investito tantissimo attraverso squadre e mezzi potenti pur di fare veicolare campagna anche attraverso i social media, ma riescono a sostituire questa, accorciare questa distanza oppure no? Io pensavo che la corciassero, invece l'hanno allungata, perché chi ha in mani i social media è fragilissimo, ci sono strumenti per arrivare, infatti una cosa che mi viene in mente, continuiamo a votare con la matita, non facciamo il voto elettronico, per favore, perché chissà che cosa capita se facessimo questo, perché mi sono accorto proprio la fragilità dell'individuo separato che diventa oggetto e non soggetto del dialogo, questa è una roba drammatica, ecco i social media sono fantastici, ti informano, ma devi essere in un coro, devi essere in un coro, non puoi essere da solo. Allora professore, come nostro pubblico, voi tutti sapete, ogni giorno cerchiamo qualche volta con più fatica una buona notizia a fine giornata, oggi quella che vi proponiamo è questa, dal Sole 24 Ore, che ha a che fare davvero con il dare l'opportunità ai più giovani, alla NASA, pensate, uno stagista di 17 anni ha avuto questa opportunità, quella di riuscire a scoprire un pianeta sconosciuto, non è un caso, ha identificato il pianeta a 1300 anni luce dalla Terra. Professore, io le chiedo questo riguardo proprio i giovani e pensavo, rileggendo alle tantissime cose che ha fatto lei, viene da una famiglia numerosa, tanti dei suoi fratelli sono stati docenti universitari e lei stesso, quindi ha contatto davvero con i giovani e lei, fra l'altro, di riconoscimenti universitari, oltretutto ne ha fino adesso 39, da tutto il mondo, se il numero è aggiornato. Allora, le chiedo, il nostro paese, sarebbe retorico chiederle se credo o no per i giovani, le chiedo come può credere ancora di più sui giovani e dare oggettivamente un'opportunità concreta. Beh, ci sarebbero mille cose da fare dall'aumento degli investimenti nella scuola e nella ricerca. Io nel mio programma di governo ripetevo solo tre parole, scuola, scuola e scuola. i paesi si fanno così, si fanno così, con questo semplice fatto. La Corea era miserevole, è diventato il più grande paese come capacità di produrre beni di consumo, eccetera, e ha 10 milioni di abitanti e meno dell'Italia. Però l'ossessione per la scuola è impressionante. Quindi questo deve essere il nostro motto. E poi bisogna lasciare spazio ai giovani, ma questo bisogna invitare i giovani a organizzarsi assieme perché lo spazio da solo non lo troveranno mai. E qui è un problema e ci vuole qualcuno che gli aiuti e li incoraggi perché devono riportare quel successo che lei ha letto oggi nella Buona Notizia. Se 11 e 7 anni ha fatto questo è perché gli hanno dato il modo di parlare con gli altri, l'hanno fatto, ad entrare nello stage della NASA. E' una squadra che ha permesso questo. Mica lì si è messo con gli occhiali e ha trovato i satellite. Poi capita invece che si fanno dei passi in avanti e in qualche modo alcuni indietro. Succede dalle scelte politiche. Lei è stato presidente della Commissione Europea di Bruxelles negli anni insomma anche davvero chiave per l'Europa come l'introduzione dell'Euro l'allargamento dell'Unione a 25 Paesi come vede l'uscita della Gran Bretagna adesso la Brexit questo sentimento di distanza non erano entrati nell'Euro questo no però certo è come dire un passo indietro che si sta facendo. Guardi l'Europa era amatissima anche quando ha preso le decisioni che oggi sono contestate l'Euro e l'allargamento perché quando si andava in avanti c'era l'idea che nascesse qualcosa che poteva avere la voce nel mondo quando si è fermata il potere passato dalla Commissione sovranazionale al Consiglio cioè ai Paesi si è paralizzata da allora ognuno è cominciato ad andare per conto suo quindi la Brexit è il sintomo di questi aspetti però guardi io penso e vedrà che non so se camperà abbastanza per vederlo ma penso proprio che fra 10-15 anni ritorneranno se come io penso l'Unione Europea andrà avanti perché ma insomma ci sono 23 cinesi ogni un italiano al mondo allora abbiamo un po' di testa o no nel capire che dobbiamo stare assieme se dobbiamo avere la voce ma si rende conto che siamo ancora l'Europa l'entità economica più ricca industrialmente più ricca del mondo e a due passi in Libia non contiamo più niente ma ci accorgeremo un giorno o un altro o vogliamo fare come gli stati italiani nel Rinascimento che litigate fra di loro siamo scomparsi dalla carta geografica dico ci vuole intelligenza politica e io mi auguro che questo lei accennava prima ad esempio al grande piano per l'ambiente che l'Europa ha scritto su questo anche recentemente ha parlato di empowerment anche di politica ambientale a livello europeo siamo in chiusura professore sì sarò brevissimo ma questa è la cosa da fare importantissima ma poi si dice però il bilancio dell'Unione Europea non può andare oltre l'1% del prodotto interno lordo dell'Europa ma allora ma vogliamo fare le nostre con i fichi secchi ecco questi sono i grandi problemi che dobbiamo affrontare se c'è un obiettivo dobbiamo darci gli strumenti per raggiungerlo per i giovani e per l'ambiente professore un'ultima domanda siamo veramente anche fuori tempo massimo ma nell'aprile 2013 un tema ci perdonerà che ogni tanto le pongono ha sfiorato come candidato il Colle al Quirinale da un Colle che ogni tanto si riaffaccia come guarda come dire ad allora e anche al futuro questo traguardo politico istituzionale lei ha usato un'espressione sbagliata sfiorato ero sicurissimo che non mi avrebbero votato infatti io ero in Africa a un convegno sono rimasto in Africa e tutti i ministri degli esteri africani dicevano e così sarebbe anche la prossima volta ma le dico anche che non è nella mia agenda ecco con tutta onestà bene grazie al professor Romano Prodi per essere stato con noi grazie davvero grazie a voi di avermi invitato e allora vi lascio a questa nostra estate con Riffonda subito dopo di noi in studio per il ciclo Un sorriso al giorno e adesso ecco qui che lo vedete che sta per andare in onda subito dopo di noi il Dulcis in fundo guarda la giornata del 15 gennaio del 1929 quando ad Atlanta nasceva Martin Luther King vi lasciamo così grazie per averci seguito domani